Quattro giorni per morire dopo aver mangiato un Wüstel crudo di pollo è accaduto ad Alessandria dove un uomo di 80 anni era stato ricoverato d'urgenza con sintomi da meningite dall'isteria un batterio molto diffuso nell'ambiente che grazie alla sua resistenza può sopravvivere e moltiplicarsi anche a basse temperature andando a contaminare gli alimenti con un elevato grado di lavorazione come gli affiettati, i macinati, i piatti cotti a base di carne, i formaggi a pasta molle e i prodotti affumicati. Secondo il quotidiano La Repubblica che questa mattina ha diffuso la notizia l'ottantenne si era sentito male subito dopo aver consumato il Wüstel e una volta ricoverato all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria il suo quadro clinico era precipitato progressivamente fino al decesso. Si è accertata la causa della morte e salirebbero a quattro i casi di infezione dall'isteria dopo i primi segnalati tra dicembre 2021 e giugno di quest'anno in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Questo nuovo caso è già stato trasmesso al Ministero della Salute e attualmente le indagini sono condotte da Inasse, dall'Asla e dalla Procura della Repubblica. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti l'uomo era solito consumare Wüstel crudi acquistandoli in un grande complesso alimentare fornito anche dall'azienda Trevalli che dal canto suo aveva tempestivamente ritirato dal mercato una partita di prodotti contaminati confezionati prima del 12 settembre. Sul sito del Ministero è possibile reperire tutte le informazioni riguardo a questo batterio così nocivo per l'uomo, con le avvertenze di come l'isteria può facilmente contaminare gli alimenti sia crudi che cotti. Ma come possiamo proteggerci? Dobbiamo assicurare la separazione tra i diversi tipi di prodotti, crudi in fase di preparazione, crudi pronti per il consumo e cotti pronti per il consumo, cercando di consumare quanto prima quelli pronti, cuocendo e riscaldando gli alimenti subito prima di consumarli.